L'assessore all'agricoltura del comune di Sala Consina, Luigi Giordano, propone una nuova alternativa e opportunità di lavoro, ossia la coltivazione del bambù gigante. Presso il polo Cappuccini, nella serata di ieri, in un incontro molto partecipato, Enzo Mormando e Luigi lo martire della ONLi Mosso, Consorzio Bambù d'Italia, hanno illustrato i vantaggi della coltivazione del bambù gigante, una pianta d'utile per i suoi numerevoli utilizzi che vanno dall'alimentazione alla realizzazione di strutture green. Un'opportunità di lavoro da proporre ai giovani in cui coinvolgere anche gli enti sovracomunali per sostenere l'avvio delle attività con appositi finanziamenti, come sottolineato dall'assessore Giordano. Questa occasione potrebbe essere quella buona per dare la possibilità di lavoro redditizio a chi ha interesse di investire nell'agricoltura soltanto 17.600 euro per creare in un ettaro di terreno la coltivazione del bambù gigante. A che cosa serve il bambù? Innanzitutto noi vogliamo non precorrere i tempi ma quantomeno sentiamo parlare molto spesso per televisioni, nelle televisioni nazionali, dell'ecocompatibilità, della possibilità innovativa e della green economy. Oggi sapremo che a breve, e il Comune di Sala già l'ha fatto, farà una delibera per bandire la plastica e quindi significa che attraverso il bambù, che è un prodotto biodegradabile, possono essere date alla luce questi piatti che oggi noi utilizziamo con la plastica, i bicchieri che utilizziamo con la plastica, mi viene utilizzato il bambù per creare questi oggetti che sono diventati quasi indispensabili per le mense scolastiche, per tutte le attività e per la vita quotidiana di ognuno di noi. Abbiamo intercettato questa grande possibilità, noi la vogliamo spendere nell'interesse dei cittadini di Sala, ma io credo nell'interesse di tutti i cittadini del Vallo di Diano. E chiameremo al nostro tavolo di concertazione anche la Regione Campania, perché attraverso l'assessorato all'agricoltura potrà permettere uno sviluppo serio dando la possibilità anche a chi non se lo permette di impiantare questo in un ettaro di terreno che costa 17 mila euro. Attraverso contributi seri si potrebbero permettere anche ai giovani di dare vita a questa coltivazione. La coltivazione del bambù gigante, secondo quanto emerso, può produrre su una piantagione di un ettaro di terreno un ricavo che si aggira intorno ai 45 mila euro. Una pianta che si adatta agli usi più svariati, dalla cucina alla cosmesi, passando per l'edilizia senza dimenticare la realizzazione di filati e bevande energetiche. Inoltre, in un periodo in cui si punta su prodotti green ed ecosostenibili, la pianta di bambù gigante, per le sue caratteristiche e per la capacità di purificare l'ambiente in cui cresce, è particolarmente ricercato. Un'opportunità importante su cui riflettere, come sottolineato anche dal sindaco Francesco Cavallone. Il compito di un'amministrazione è di informare la cittadinanza e il proprio territorio sulle eventuali possibilità imprenditoriali in questo settore dal punto di vista dell'agricoltura che possano interessare i nostri cittadini. Noi come amministrazione, già nel nostro programma elettorale, ma anche prima, avevamo detto che volevamo far ripartire Sala Consilina da dove era nata, cioè dall'agricoltura. E credo che abbiamo mantenuto fede a questo patto, a questa promessa fatta in campagna elettorale, perché noi già avevamo messo a disposizione di tutti i giovani che volessero investire in agricoltura quelli che sono i terreni del comune e avevamo detto che li avremmo dati gratuitamente. Questa promessa è stata mantenuta. La proprietà terriera del comune è discreta anche in seguito alla rinuncia da parte dei cosiddetti proprietari livellari e quindi noi confidiamo che sicuramente si possa tracciare una strada importante per poter dare un futuro anche alla classe imprenditoriale di giovani che vogliono investire in questo settore.